Bla 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 Bentornati al consueto appuntamento con TG Tech Scopriamo subito insieme quali sono le notizie più importanti di questa settimana La scatoletta nera che mette a rischio gli iPhone Touch, CD e PIN del tutto inutili? Huawei Ashen P8 Lo scopriremo a Londra Per la seconda peta dell'anno La nuova generazione di acceleratori Intel Xeon Phi Per super computer del futuro Batterie più performanti dalle chips per imballaggi Lightro Illum e Samsung NX500 arrivano in Italia Bloodborne disponibile da questa settimana In apertura Nino ci parla di una strana scatoletta nera Che potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli iPhone Una scatoletta nera da meno di 150 euro È in grado di espugnare le difese di iPhone e iPad E non importa se in precedenza siano stati impostati i codici di sicurezza O il Touch ID per lo sblocco attraverso l'impronta digitale Si chiama Hitbox e consente di effettuare un attacco brute force Provando tutte le combinazioni possibili del codice PIN a quattro cifre Utilizzato per lo sblocco dei dispositivi iOS Il sistema operativo comunque adotta delle strategie per proteggersi dagli attacchi brute force Il numero di tentativi per l'emissione della password è limitato Mentre è impostabile l'eliminazione di tutti i contenuti dopo 10 prove fallite Ma Hitbox aggira tutte queste restrizioni Si collega direttamente alle batterie dei dispositivi E taglia l'alimentazione ogni volta che individua una password non corretta In questo modo il tentativo non viene conteggiato E la scatoletta ha quindi possibilità illimitate per indovinare quella corretta La buona notizia è che ci sono vari modi per proteggersi dai suoi attacchi Basta infatti installare iOS 8.1.1 successivi Oppure impostare una password a più di quattro cifre Puoi installare l'auto 8.1.2 Si Puoi mettere una password a più di quattro cifre Si Poi? E basta Non perdono in un bar Ah Davide invece a metà aprile E viaggerà a Londra per scoprire il nuovo P8 Di cui ci anticipa qualcosa Tra circa una ventina di giorni Il colosso cinese Huawei Nome sempre più importante per quanto riguarda il panorama smartphone internazionale Terrà un evento in quel di Londra Nel corso del quale probabilmente annuncerà il proprio nuovo top di gamma Ovvero Huawei Ascend P8 Successore di Ascend P7 Annunciato circa un anno fa Il nuovo P8 dovrebbe portare in dota alcune interessanti novità Anzitutto un display più grande Ma una scocca che nonostante le maggiori dimensioni del display Dovrebbe contenere il proprio ingombro con uno spessore di soli 6,6 mm I disegni comparsi online qualche giorno fa mostrano un display da 5,2 pollici Al contrario dei 5 di Ascend P7 All'interno dovremmo trovare un processore ai silicon Kirin 930 octa-core E 3 GB di memoria RAM Il quantitativo di memoria dedicata allo storage è ancora sconosciuto Ma siamo quasi certi che possa essere espanso tramite schede di memoria micro SD La fotocamera posta nella parte posteriore dovrebbe mantenere la risoluzione di 13 MP Mentre sempre 8 MP sarà la risoluzione di quella frontale Altra novità nella parte posteriore una finestrella che ancora non sappiamo di cosa si tratti Ma potrebbe essere un sensore di impronte digitali Paolo ci parla invece dei super computer del futuro Saranno a debutto nel corso della seconda metà dell'anno Parliamo delle nuove soluzioni Intel della famiglia Xeon Phi Nome che identifica prodotti destinati ai super computer E che sono basati di fatto su quella che è stata la prima architettura Intel della famiglia Larbi Le nuove soluzioni vengono indicate con il nome di Knight's Landing E verranno proposte in tre differenti versioni La prima è una tradizionale scheda PCI Express da installare quindi all'interno del server Le altre due sono su socket Per la prima volta Intel propone soluzioni Xeon Phi Con l'installazione diretta sulla scheda madre Quali le caratteristiche tecniche? La peculiarità di questi prodotti è la presenza di una tecnologia di memoria locale Montata direttamente sul DAI del chip Questo è disponibile per tutte quante le versioni di Xeon Phi di prossima generazione Per le versioni socket avremo anche la possibilità di interfacciarsi con dell'altra memoria fisica Montata sulla scheda madre Attraverso un controller DDR4 a ben 6 canali La risultante? Prestazioni velocistiche molto elevate Che dovrebbero spingersi sino a 3 teraflops Per quanto riguarda i calcoli in double precision E 6 teraflops, quindi il doppio, per quelli in single precision Tutto questo per i super computer destinati al calcolo parallelo di prossima generazione Che vedremo al debutto a partire per l'appunto dalla seconda metà dell'anno Avete presente quelle patatine di polistirolo che trovate dentro dei vostri pacchi? Potrebbero essere la base per le batterie del futuro Ci dice tutto Andrea Un gruppo di ricercatori della Pure University ha trovato un modo di riutilizzare i trucceli da imballaggio E trasformarli in anodi per le batterie agli ioni di litio I ricercatori hanno sottoposto a cottura i trucceli da imballaggio a temperature comprese tra i 500 e i 900 gradi centigradi A seconda della composizione dei trucceli che siano fatti di amido o di polistirene Essi formano nanoparticelle o microfogli di carbonio Entrambi i materiali sono caratterizzati da una struttura porosa ed irregolare Che offre un'elevata superficie per trattenere gli ioni di litio Rispetto alla grafite che viene usata oggi negli anodi delle batterie agli ioni di litio Riuscendo a raggiungere una capacità di stoccaggio di 420 mAh per grammo Rispetto ai 370 mAh per grammo della grafite Il gruppo di ricercatori sta ora sviluppando un processo di produzione scalabile E di nuovo anodo potrebbe essere pronto per la commercializzazione nel giro di un paio d'anni In settimane è stato annunciato l'arrevo sul mercato italiano di due interessanti prodotti Lightro Illum e Samsung NX500 Partiamo da quest'ultima che è una Mirrorless Che racchiude il cuore dell'ammiraglia Samsung NX1 In un corpo più compatto rinunciando ad esempio al mirino E a un prezzo più accessibile Si parte infatti da 749 euro Dal 25 marzo invece nei negozi Lightro Illum La Lightfield Camera Professionale Con un sensore da 40 megapixel e un particolare sistema di microlenti La macchina riesce a riprendere intensità e colore Ma anche la direzione dei raggi luminosi che passano per l'obiettivo Ricostruendo così via software una mappa delle profondità degli oggetti presenti nell'inquadratura In questo modo riprende foto tutti a fuoco praticamente In cui è possibile decidere a posteriori il punto di messa a fuoco con grande flessibilità Si può decidere quando si visualizza la foto che diaframma simulare tra F1.0 e F16 E in quale punto mettere a fuoco Ma anche decidere in modo arbitrario la profondità di campo Mantenendo ad esempio tutto il soggetto in primo piano a fuoco E lo sfondo sfocato con effetto F1.0 Inoltre le foto possono essere anche visualizzate con un effetto 3D L'Aetro Illum è in vendita come dicevamo dal 25 marzo Presso i rivenditori specializzati a un prezzo di 1299 euro Chiude Rosario con uno degli ultimi lanci di questa settimana L'avvenimento più rilevante della settimana in ambito videoludico È stata l'uscita di Bloodborne L'atteso gioco di ruolo di From Software Che è stato accolto con voti di eccellenza da parte della critica del settore Sviluppato dalla software house artefice di Demon's Souls e dei Dark Souls Bloodborne è difficile proprio come i Souls Ed è ambientato in un suggestivo scenario con forti influssi gotici Rispetto ai Dark Souls abbiamo un'ambientazione che strizza l'occhiolino Più ai toni occidentali invece che a quelli orientali Con un protagonista che si sposa bene con questa ambientazione Essendo armato di una lama e di una falce in una mano E di un fucile a pompa nell'altra mano Nella città in cui si ambientano le vicende di Bloodborne Si trova una sostanza che è in grado di curare molte malattie Ed è per questo che è ambita da innumerevoli pellegrini Che si recano proprio per questo motivo sul posto Bloodborne è adesso disponibile unicamente nel formato PS4 Perché From Software gode di un accordo di collaborazione Per la distribuzione del gioco con Sony Computer Entertainment Ma su internet è già stata avviata una petizione Con cui i giocatori chiedono anche la versione PC del gioco Termina qui anche questa edizione di TG Tech Vi rimandiamo al prossimo appuntamento col telegiornale del network di Hard Upgrade Cliccate mi piace in calce a questo video Come tanto piace alla gente che ci segue e che commenta Oppure cliccate qui sotto se non capite cosa vuol dire in calce Condividete il video con tutti i vostri amici Sui social network e a proposito di social network Andate sulle nostre pagine Facebook Per rimanere aggiornati con tutte le nostre novità Cliccando mi piace anche lì Potete cliccare anche mi piace in calce ai post In calce ai video In calce alle immagini Oppure condividere tutti i nostri tweet C'è il bottoncino con le due freccine In calce a ogni tweet Se invece non vi piace Potete mettere il vostro mouse con la vostra mano In calce viva